Buonasera a tutti gli amici di Italia Medievale per questo appuntamento un po' diverso dal solito che riguarda sempre il nostro amato Medioevo con un ospite d'eccezione. Quest'oggi è con noi Riccardo Masini. Ciao a tutti, ciao ciao. Allora perché è speciale? Riccardo Masini è appassionato di gioco di simulazione dall'età di sei anni, ossia da tanto dice lui, ma potrete vedere lui stessi. È cresciuto in mezzo ai numeri delle riviste di settore per gioco e ai grandi titoli international team Avalonil SPI. Per chi ha un'infarinatura di wargame e giochi da tavolo non sono proprio sigle che lasciano indifferente. Come prima esperienza editoriale ha tradotto numerosi saggi di storia militare e analisi geopolitica per case editrici come Mondadori e Fazzi Editori. Ha curato, ecco per gli appassionati di Tom Clancy, la versione italiana della collana dello scrittore e analista americano dedicata alle principali specializzazioni delle Forze Armate statunitense. Ha coordinato e collaborato a svariate penti nel settore ludico, sia nel campo del gioco di simulazione da tavolo, sia con le miniature, non chiede il gioco di ruolo. E nel 2018 è stato il coautore di Le Guerre di Carta 2.0, la riedizione aggiornata di un grande classico uscito una quarantina d'anni fa, se non sbaglio, dal 79, edizione Unicopli, un'opera di approfondimento sul gioco storico in tutte le sue forme. Nel 2019 ha contribuito alla realizzazione di Mettere in gioco il passato, sempre editrice Unicopli, e di recente ha ultimato la scrittura del Gioco di Arianna. Quindi capite che si può proprio definire anche un esperto nel settore. L'approfondita analisi di giochi di simulazioni non lineari e ibridi, dedicati ad argomenti militari, politici ed economici. E questo è un punto di cui poi parleremo più avanti con Riccardo. Collaboro attivamente con riviste e portali UAP di settore e ha un proprio canale YouTube, blog e un podcast, Checkpoint Charlie, che io, lo dico personalmente, ve lo consiglio perché mi hanno tolto un po' di timore, anche di questo parlerà Riccardo, all'approccio a questi wargame. Cioè la grande attrazione per il gioco storico, ma il timore di quegli esagoni, di quelli regolamenti, ma in realtà devo dire che ho sciolto molto l'ansia grazie ai video di Riccardo. Quindi hanno anche una valenza ansiolitica. È appunto ansiolitica. È membro della Società Italiana di Storia Militare, il SISM. Ha collaborato alla redazione di alcune sue pubblicazioni annuali. Nell'ambito della storiografia militare è coautore di Le battaglie che cambiarono il mondo, pubblicato da Rusconi. Un saggio relativo alle grandi battaglie della storia del mondo da Meghiddo, quindi parliamo del XV secolo a.C., ai giorni nostri, corredato da un approfondimento, e questo è qualcosa anche di originale rispetto a queste pubblicazioni, sull'immagine della guerra nella letteratura fantastica e sull'impiego del gioco di simulazione come metodologia di ricerca storica controfattuale. È anche l'ideatore e l'organizzatore dell'evento annuale La Storia in Movimento, un ciclo di conferenze dedicato al rapporto tra ricerca storiografica e gioco di simulazione. È appassionato di fotografia, vive a Roma con la moglie e due splendidi gatti che chi lo frequenta magari nei suoi video potrà conoscere anche di persona. E che magari poi compariranno qua dietro, eh, quindi... Quindi fa parte della diretta. Perché abbiamo tenuto ad avere Riccardo Masini con noi? Proprio per questa caratteristica di avere un taglio di storico da un lato e di esperto ludico dall'altro. sia in campi distinti, sia nel momento in cui, nei tanti momenti in cui queste due realtà si incontrano nel gioco storico. Io non rubo ulteriormente tempo a Riccardo Masini e lascio a lui la parola. Buon ascolto. Grazie a tutti. Allora, beh, intanto a me è fatto particolarmente piacere delle cose che tu hai detto, questa cosa che ti ho tolto un po' la paura del gioco storico. Perché un po' tra gli appassionati del gioco c'è ancora, e poi ancora di più tra chi non conosce il gioco, c'è un po' questo terrore del wargame, che pensano sia qualcosa di complicatissimo. Questa è una cosa su cui io punto molto. Tu hai citato Chatpoint Charlie, io ho anche la rubrica Il Dado di Cesare su Io Gioco, che è la principale rivista cartacea che trovate in edicola una volta ogni due mesi, è un bimestrale, proprio dedicato a mostrare a tutti questo mondo del gioco di simulazione storico. Gioco di simulazione storico, proprio in tre parole, partiamo dalla parola stessa, simulazione, simulazione, cioè è un gioco che vuole creare una rappresentazione di un evento storico. E però questa rappresentazione, siccome è anche un gioco, quindi una rappresentazione per via analogica, ma è un gioco a esiti liberi. Cosa significa? Io, molti pensano al wargame, allora pensiamo agli scacchi. Non proprio. Voi immaginatevi degli scacchi dove io muovo le pedine, però ogni quadrato della scacchiera è un terreno particolare, quindi va a modificare la forza della pedina e quando una pedina deve mangiare un'altra, entrambe tirano un dado, modificandolo sulla base del terreno, che è in un terreno migliore, che è in un terreno peggiore, e qual è la pedina più potente e la pedina meno potente. Ora, tutto questo è una simulazione. Se questi fattori che determinano gli esiti, che influiscono sugli esiti, hanno un aggancio con la realtà, e quindi di nuovo qua la parte simul, e quindi la parte analogica, allora abbiamo una simulazione storica. Perché? Perché questi fattori sono il frutto di una ricerca storica da parte dell'autore che mi dice, entriamo in ambito medievale, se la cavalleria carica della milizia, della fanteria sparsa così, ha un più due al dado e se fa quattro, cinque, sei li ha sbaragliati, se però quella milizia in realtà non è una milizia, ma sono fatti ben addestrati, con delle belle picche di uno skiltron scozzese, allora sarà la milizia, sarà la fanteria ad avere la meglio, e quindi sarà la cavalleria a rischio di essere travolta. Questo, in estrema sintesi, è quello che fa una simulazione. E qui parliamo ovviamente del wargame, in senso stretto, cioè la simulazione militare. Poi c'è una simulazione in senso più largo, e il fatto già che io sto utilizzando il termine simulazione in senso largo, vi fa capire il fatto che da quale delle due parti io un pochino sto, cioè qual è il mio interesse maggiore, e che fa vedere anche l'aspetto bellico in un ambito più ampio rispetto alla semplice rappresentazione cinetica. Arriva la cavalleria e travolge la linea di fanteria. Vi fa vedere, per esempio, come si organizza una campagna militare, quali sono gli aspetti politici che stanno dietro ad una guerra, quali sono le difficoltà di mantenere il comando di una battaglia vera e propria, e magari sempre sulla base di eventi storici, rifatti storici, quelli che sono magari... Ci sono dei giochi sulla guerra delle due rose, in cui naturalmente ci sono a metà dei comandanti che sono pronti a tradire durante la battaglia e passare dalla parte avversa. Questo c'è in queste simulazioni, in queste simulazioni ogni tanto si tira un dado e si vede se Stanley arriva a Bosworth oppure se non arriva. Per esempio, intanto per dirvene una, l'esempio, uno degli esempi più classici, più noti, shakesperiano direi. Quindi ovviamente l'ambito è estremamente ampio. Questi sono giochi in scatola. Faccio vedere, per esempio, tipo questo. Vengono in queste belle scatole che sono piene di mappe, che sono le mappe di dove si sono svolte le battaglie, con un regolamento, con delle pedine che rappresentano le singole unità, e che voi spostate su questa mappa e la mappa ha una griglia di solito esagonale e regola i movimenti. C'è l'esagono di collina, c'è l'esagono di fiume, c'è l'esagono di pianura, eccetera. E questo nell'ambito della simulazione militare. Oppure possono esserci delle simulazioni più ampie strategiche in cui la mappa non è solo dove c'è stata la battaglia di Hastings, ma vi fa vedere tutta quanta... cioè la Normandia ha un pezzo, un pezzo d'Inghilterra, allora mi fa muovere gli eserciti più ampli con altre soluzioni. Ovviamente c'è veramente di tutto. Questi sono dei giochi, dei giochi da tavolo. Si distinguono da quelli che sono comunemente noti come giochi da tavolo, i cosiddetti Eurogame, che sono quelli che vanno... adesso stanno andando molto per la maggiore e che sono ancora più giocati, spesso anche giochi... si dicono anche giochi alla tedesca, ci sono veramente tante categorie. la distinzione nella simulazione, quella che almeno io ho trovato come forma di distinzione, è soprattutto la distinzione tra giochi in cui prevalgono le meccaniche, e quindi sono combinazioni matematiche, interazioni tra giocatori, eccetera, rispetto a quelle in cui invece prevale il contenuto. Ecco, le simulazioni è il contenuto a determinare le meccaniche di gioco, cioè... e quindi magari possono anche essere sbilanciate, perché l'evento storico da singola battaglia era sbilanciata, mentre invece nel gioco, nell'Eurogame, nel gioco da tavolo in senso più ampio, di solito sono le meccaniche che prevalgono su contenuti, ambientazioni che sono un po' attaccate lì, un po' incollate lì, solo per fare colore, ma in realtà vengono continuamente tradite perché il gioco deve avere un suo equilibrio interno. La simulazione non cerca di essere equilibrata, la simulazione cerca di essere, quanto più possibile, fedele alla realtà, da un lato, e dall'altro di essere, diciamo così, giocabile, di rimanere un gioco, quindi non essere ipercomplicata. Alcune simulazioni, non io ne importa niente, vanno sull'ipercomplicato, c'è chi piace di più questo tipo di simulazioni, quindi con partite che durano 7-8 ore, manualoni a 30 pagine, ci sono tantissime altre che invece hanno manuali molto più snelli e in un'ora o due e sono veramente adatti a tutti e poi magari uno gioca a quelle più semplici, poi va avanti su quelle più complicate, torna a quelle più semplici, è assolutamente liberissimo. La cosa fondamentale del gioco di simulazione è che voi vi trovate di fronte ad una rappresentazione, io l'ho definita nel libro, nelle battaglie che cambiano nel mondo, una rappresentazione controfattuale, storica controfattuale, quindi basata su delle ipotesi di una rappresentazione ragionata, ponderata non è a caso, non è il risico, su una rappresentazione ponderata, sulla base di analisi storici, vi ritrovate al centro di questi eventi storici e voi decidete nell'ambito delle regole che vengono fornite come andranno e quindi decidete ma ad Agincourt con la mia cavalleria francese attacco subito oppure aspetto che questi benedetti balestrieri facciano il loro lavoro e lascio andare avanti gli inglesi prima di caricare come un matto. sta a voi, non è detto che sia una buona idea, magari vedete, aspettate, aspettate e poi gli inglesi gli sconfiggono uguale. Dipende da voi, dipende dal vostro avversario, dipende certo anche dal dado, però anche qui c'è un elemento casuale ma di nuovo l'elemento casuale è ponderato, cioè è, diciamo così, regolato sulla base di quella che è la rappresentazione storica dell'evento che ne dà l'autore del gioco. Io dico sempre il gioco di simulazione un gioco di simulazione un po' come un libro di storia in realtà perché l'approccio che l'autore del gioco ha nella rappresentazione dell'evento nella creazione di questo modello interattivo è lo stesso che ha lo scrittore di un libro di storia che può essere un che può essere un Keegan che può essere un Delbruck vedete voi che è la sua visione di quell'evento tant'è che addirittura alcuni autori e questa è una cosa molto interessante mettono all'interno del loro gioco delle regole opzionali cioè se secondo voi secondo me è andata così ma se secondo voi a Ben Ockburn gli inglesi sono spuntati da questa strada piuttosto che da quest'altra usate questo schieramento e si possono mettere a confronto queste cose di nuovo libertà sono dei modelli quindi io posso variare anche io ho una mappa ho delle pedine ma io posso spostarle queste pedine posso piazzarle in un altro posto posso vedere cosa sarebbe successo se Aging Curl avessero combattuto in un altro punto della mappa oppure a me non piace questa tabella di combattimento in cui c'è la cavalleria che passa soltanto al 6 diamogli che passa con un 5 e con un 6 su di un dado e vediamo cosa succede il gioco è libero è il vostro gioco e quindi potete sperimentare questa è un'altra grande è un'altra grande cosa e di questo ne ho parlato molto nel libro mettere in gioco il passato quando ho definito il gioco di simulazione una forma di public history cioè di divulgazione intelligente della storia di contatto diretto con la storia però diffusa perché in realtà io mi compro un gioco di simulazione e poi tutta questa roba me la faccio a casa non ho bisogno del super evento per farlo io mi compro un gioco poi ne parleremo su Nevsky sulla campagna dei Teutin in Russia beh io me lo posso giocare una due dieci volte quando voglio con chi voglio da solo con altri eccetera in maniera totalmente libera testando da me le mie ipotesi le mie mosse le mie variabili sono modelli come tali sono dei modelli riutilizzabili e quindi sono delle rappresentazioni ora quindi abbiamo visto c'è una varietà pressoché infinita di queste simulazioni che sono di durata e complessità diverse poi le possiamo calare ovviamente nei singoli periodi perché ci sono simulazioni sul periodo antico simulazioni sul periodo napoleonico sull'ottocento sulla seconda guerra mondiale e ovviamente simulazioni sul medioevo e il medioevo è un periodo così particolare così sfaccettato che si presta moltissimo a questo perché si presta sia simulazioni militari vere e proprie cioè wargame diciamo così in senso stretto in senso stretto che ha wargame in senso più ampio perché sempre di più ci sono stati sono arrivati dei wargame delle simulazioni belliche in cui l'aspetto militare si fondeva con le politiche dinastiche con i rapporti con il papato i problemi con i baroni locali tutte queste classiche cose da medioevo è che un gioco di simulazione sa fare benissimo un gioco di simulazione sa mescolare benissimo piani diversi e questo sta succedendo soprattutto negli ultimi anni è una cosa che è cominciata dagli anni 70 quindi una cosa che ci portiamo a presso da tanto ma negli ultimi anni sta proprio sta proprio esplodendo e quindi diciamo il medioevo è un periodo particolarmente adatto per questo il problema qual è? quali possono essere però quelli che sono un po' i problemi Giuseppe lo sai lui mi conosce io sono sempre critico anche con le cose che dico io stesso quindi nei miei libri nei miei articoli nei miei video su vlog le puntate audio su Checkpoint Charlie dico sempre ho sempre una parte in cui quali sono le negatività di quello che stiamo dicendo quelle che possono essere le criticità di tutta questa bella roba perché uno pensa ma allora adesso io mi apro la mia scatola da gioco e adesso ho la macchina del tempo sni esattamente come succede per un per un libro di storia non è detto che io apro un libro di storia e lì ho la visione perfetta di quello che è tant'è che esattamente come ci sono tanti libri di storia diversi sullo stesso evento ci sono tanti giochi diversi sullo stesso evento se noi sapessimo esattamente come è andato a Waterloo avremmo un libro su Waterloo andando un po' più avanti nella cronologia ma non ce l'abbiamo ce ne abbiamo centinaia esattamente come abbiamo centinaia di giochi su Waterloo la stessa cosa sulle battaglie della guerra dei cent'anni o sulle guerre comunali o su quello che volete quindi ci sono quelle che possono essere diciamo così delle criticità comunque delle cose che ci devono far affrontare questa forma di avvicinamento alla storia in maniera libera giocosa appunto quanto però sempre un grano salis cioè un minimo con un atteggiamento critico per esempio una delle criticità che c'è specifiche per quello che riguarda la simulazione del Medioevo è il fatto che il Medioevo è un periodo dannatamente lungo cioè l'immagine normale che ne ha il pubblico attenzione i giochi di simulazione ancora più che i libri di storia sono storia popolare perché sono nati per essere diffusi quanto più possibili e più più attrattivi oggettivamente rispetto al librone di storia beh l'immagine che uno ha del Medioevo è il Cavaliere in Armatura il problema è una delle cose che mi trovo spesso a dire ragazzi il Medioevo comincia con i legionari tardo romani o quello che ne resta e finisce con i primi acribugieri e sono tutti Medioevo cioè durante la guerra dei cent'anni avevano delle bombarde avevano dell'artiglieria cioè cerchiamo un attimino di capire quindi è un periodo amplissimo sia per quello che riguarda la storia militare in senso stretto quindi gli armamenti le tattiche le formazioni utilizzate sia mio Dio sia poi più in là per quello che riguarda per quello che riguarda poi dopo tutta quanta la parte della società dell'assetto sociale dell'assetto politico questo ci porta alla seconda criticità che è la grande complessità del Medioevo non ci riduciamo a castelli e cavalieri e basta parliamo di un'epoca che è sempre stata un po' più complicata di così in cui gli aspetti familiari politici sociali economici religiosi permanano ogni singolo evento un grande autore Philippe Contamin nella sua guerra nel Medioevo ci ricorda che la guerra è solo il riflesso di tutta questa roba di tutta questa parte di questo ordinamento sociale giuridico legami familiari eccetera e la guerra è un modo in cui tutta questa roba si esprime e quindi è una cosa molto complessa fortunatamente abbiamo visto con Nevsky ci sono tantissimi altri altri esempi ci sono i giochi più moderni hanno ampliato il discorso hanno dato una visione più ampia del Medioevo e in questi giochi elementi prettamente militari e non si intrecciano strettamente abbiamo parlato politiche dinastiche problemi di successione al trono e cose del genere la terza criticità è che appunto abbiamo parlato di quella che è un po' l'immagine del Medioevo il Medioevo è stato un periodo che è stato pesantemente infiltrato ha avuto infiltrazioni di ogni tipo cioè distorsioni e visioni che non sono corrette e questo purtroppo il gioco di simulazione tende un po' ad esasperare queste cose quindi bisogna sempre fare un po' attenzione abbiamo avuto le più classiche quelle le infiltrazioni esoteriche ok vi dico il classico esempio i templari ecco io ho la fortuna di essere anche presidente della sezione romana di un'associazione templaristica che è l'Accademia Templare nella quale noi facciamo però ricerca storica seria sugli argomenti templaristici della presenza dell'ordine a Roma in Italia e tutto quanto bontà divina ci troviamo a dover combattere una marea di idee strane anche di personaggi strani che si aggirano intorno quindi ci sono queste specie di infiltrazioni esoteriche che si sono innestate sul corpus medievale poi abbiamo delle infiltrazioni del fantastico torniamo all'appendice del libro sulle battaglie molti pensano che il medievo sia una specie di fantasy senza draghi cioè una roba Dungeons & Dragons e tutto quanto il paradosso è che c'è un fantasy con i draghi che ha spiegato benissimo che funziona il medievo che è il trono di spade che spiega molto bene tutti quanti gli intrecci dinastici eccetera eccetera pure troppo sembra un po' un medievo all'americana però ecco il medievo non è solo questo non è neanche questo e poi le infiltrazioni più pericolose delle infiltrazioni storiografiche queste si sentono soprattutto nei giochi di simulazione cioè una certa storiografia tradizionale il mito dell'arco lungo gallese che sembra una specie di fucile anticarro a ripetizione che tira giù otto cavalieri una botta sola il cavaliere onnipotente che con la singola carica prende e risolve tutto le orde esterminate di fanti e di cavalieri arabi durante le crociate ragazzi poi peraltro dobbiamo capire che cosa intendiamo bene con arabo quindi anche qui poi lì c'è tutto quanto il discorso sulla storiografia delle crociate però vedete il medioevo ha sofferto un po' di un utilizzo successivo del periodo stesso da parte di autori che insomma ci ci sguazzano sopra dal 7-800 come minimo hanno avuto un grandissimo successo però appunto o la visione romantica o la visione ipercritica o comunque la visione distorta per motivi per motivi politici quindi anche lì bisogna fare attenzione il grande fenomeno del medievalismo il fenomeno del medievalismo che di per sé non è una cosa sbagliata si è fatto bene il problema è che è difficile farlo bene ecco questo è il discorso cioè un amore una passione per il medievalismo anche una diffusione dell'immagine medievale a livello popolare è giusta è bella perché comunque è un discorso storico però quando tu intervieni con delle distorsioni e quando sono addirittura degli storici a fare queste distorsioni il sistema si inceppa questo purtroppo si nota ogni tanto dobbiamo sempre fare attenzione perché magari c'è qualche mito perché diciamo la maggior parte dei giochi di simulazione sono di origine sono fatti da autori americani e alle volte non perché sono americani ma perché c'è una certa storiografia anglosassone sono un po' vittime di questa storiografia anglosassone che è molto così ha un po' i paraocchi e quindi ci troviamo di nuovo il mito dell'arco lungo il mito del cavaliere che fa la gara che spezza tutto eccetera tutta questa bella roba qua e quindi magari ogni tanto va un attimino calibrata ecco questo diciamo è un po' il discorso in generale su quello che può essere un rapporto tra gioco di simulazione e medioevo non so se no allora questo è il discorso che hai fatto tu delle infiltrazioni c'è che ho invitato molto spesso noi abbiamo la fortuna anche di incontrare e di di proporre spesso il tema del medievalismo cioè di questo studio di come il medioevo sia stato reinterpretato e utilizzato nei secoli per mille motivi da quello politico a quello nazionalistico a quello più magari distaccato dell'immaginifico letterario poetico dell'età dell'oro quindi sicuramente è interessante anche studiare questi fenomeni come si sono infiltrati i mille rivoli che hanno portato da quella che è stata i fatti di allora e la lettura che ne è stata data distorta così quello che mi ha mi ha colpito sia leggendo che ascoltandoti è come questo mondo del world game tu dici il medioevo sono già mille anni però ci sono tutte le altre epoche le guerre mondiali Napoleone e l'antichità esatto che ci sia questo grande respiro collettivo questo respiro in cui ci sono dei designer che trovano delle meccaniche in alcuni giochi ne vengono ispirati per trarre meccaniche per altri giochi cioè tu ricordi che c'è stata questa evoluzione in cui si è partito dal tattico quindi dalla battaglia per poi inserire tutta una serie di passaggi per essere più fedeli alla ricostruzione storica quindi i dubbi di un comandante il fatto che potessero tradire o potessero defezionare nel corso della battaglia e questo va dai mercenari svizzeri fino a a qualunque tipo di alleato in fido ai visigoti sul Guadalete nel 701 c'è una lunga tradizione in questo senso quindi diciamo che dall'inizio alla fine del medioevo si pone questo problema e si tocca con mano come il mondo del wargame si scambia queste conoscenze di dinamiche meccaniche per per risolvere delle problematiche che nascono dal voler rendere sempre più fedele e sempre più simulante il gioco hai qualche esempio che ti viene in mente anche recente adesso sì allora la cosa è così la tua domanda è molto interessante io ti rispondo subito quello che tu hai detto e rafforza un po' quello che stavamo dicendo prima questo processo di affinamento per cercare di ottenere una rappresentazione migliore dell'evento eccetera lo ha fatto anche un'altra cosa la ricerca storica ha fatto esattamente lo stesso percorso se tu vedi la ricerca storica è passata soprattutto nella storia militare è passata da una visione potentemente tradizionale fredda cinetica quanta gente c'era in un certo punto chi c'era chi non c'era e tutto ad una visione più ampia dell'aspetto bellico ed è normale perché tu cominci a un processo normale comincia un po' a vedere quella che è la guerra nella sua tecnicità quella che in gergo tecnico chi fa i war game di professione chiama l'aspetto cinetico cioè il fatto che una unità vada da un punto A ad un punto B in quanto tempo e chi incontra il mezzo se riesce a sconfiggerlo oppure no ha anche l'inclusione di quelli che sono chiamati fattori non cinetici il morale l'aspetto politico che quale assetto sociale li ha portati in quel punto lì con quell'equipaggiamento lì con quelle tattiche lì la differenza insomma tutte queste tutte queste cose qua che poi io dopo ricomprendo in quella che è la tipologia della simulazione non lineare perché non ha un'unica linea di sviluppo cioè non mi fa vedere soltanto appunto tipo la partita scacchi muovo una pidina in A7 o in A5 e cose del genere inserisce altri elementi altri livelli altre linee di narrazione perché la simulazione è anche narrazione di un racconto storico pseudo storico non è la storia vera però è una storia plausibile e appunto da tutti questi incroci che non sono lineari perché non è una linea unica e alcuni non sono neanche traducibili in maniera statistica in maniera matematica ma vengono dalle libere interazioni dalle trattative tra i giocatori per esempio pensiamo ai giochi diplomatici ce ne sono tantissimi in ambito medievale per carità non li contiamo beh tutto questo crea una rappresentazione più completa che esattamente la rappresentazione più completa che ci stanno dando partendo dalle radici degli anni 70 i giochi più moderni esattamente come ce la sta dando la ricerca storica quindi come vedi i due percorsi sono perfettamente paralleli e credo che faccia anche bene almeno così emerge per quanto riguarda il concetto di storia militare in Italia che per anni è sempre stata considerata un riflesso di un bellicismo o di un essere guerra fondai quando invece se vogliamo chi studia seriamente la storia militare è il primo in grado di mettere in guardia rispetto ai rischi qui c'è qui c'è un lungo discorso e io te la giro e io te la giro dall'aspetto dei wargame perché uno poi dopo può ricordare Wells piccole guerre il wargame almeno esatto la frase finale di Wells esatto cioè è fatta apposta noi facciamo questa cosa per far vedere quanto what a blunder il blunder della guerra il blunder in inglese è l'errore casuale è la totale caoticità l'assenza di qualsiasi forma di gloria insensatezza io anche su questo ho scritto piuttosto tanto sull'utilizzo dei wargame di nuovo il discorso della public history diffusa del comprendere io ho avuto dei momenti seri di problemi quando ho giocato dei wargame o sulla prima guerra mondiale ne parlo in uno dei miei vlog intanto quando ho visto le pile di perdite proprio le pile fisiche di piedine che io avevo eliminato che rappresentavano migliaia di uomini e poi quando ho scoperto per esempio che come tedesco dovevo utilizzare il gas per sfondare un pezzo della linea alleata mi sono sentito male poi mi sono reso conto però così ho salvato almeno una decina delle mie unità perché da tedesco non li ho fatti andare contro delle mitragliatrici capisci? tutto questo bilanciamento degli orrori da una parte della guerra da una parte dall'altra beh è un bel è un bel momento di consapevolezza un'altra cosa che io ho evidenziato questo soprattutto nelle guerre di carta 2.0 è che il wargame funziona in generale gioco di simulazione storico e nel medioevo si sente molto questa storia sulla base di tre C il coinvolgimento prima ti coinvolge ti diverte poi il secondo livello è la conoscenza perché tu conosci un argomento vieni un po' a capire come funziona un argomento sei anche spinto a fare ricerche successive per conto tuo la terza C è la consapevolezza poi a un certo punto ti rendi conto di che cosa significa una guerra che cosa la determina quali sono le conseguenze e questa consapevolezza dall'analisi del passato tu la porti all'analisi del presente perché tu vedi che certe forze storiche politiche certi rapporti esistono anche oggi esattamente come al tempo di Carlo Magno o di Enrico V se tu la campagna di Enrico V per avere la Cincur me la studi soltanto a livello militare c'è l'esercito che Darfleur ha fatto sto giro qua non ha molto senso se tu me la giri con la parte politica che Enrico V deve fare quello perché non ha fatto tutti quanti i re precedenti perché aveva i nobili che volevano il saccheggio volevano una necessità finanziaria c'è quel bel film che è uscito su Netflix poco tempo fa proprio su Enrico V che è tutto su questo su come una tesi secondo cui lui sia stato spinto a fare questa campagna che a livello militare era piuttosto dubbiosa come esiti proprio per delle motivazioni politiche economiche interne gli emetti sono intrecciati quando tu ti sei reso conto di questo beh allora se la guerra funzionava così mille anni fa 500 anni fa 200 anni fa 20 anni fa magari sta succedendo anche adesso o potrà succedere anche in futuro e qui scatta la consapevolezza e questo è un aspetto civile non politico civile del wargame un valore che secondo me è molto elevato il gioco di simulazione storico ma perché lo è elevato lo studio della storia ecco certo ecco per entrare magari un po' nel dettaglio di esempi di giochi ambientati nel medioevo andiamo dritti nel concreto guarda adesso adesso veramente andiamo e cominciamo dal basso ok quindi cominciamo da quel livello che è quello dei giochi tattici dalla battaglia cioè dal tizio che si picchia ok anzi addirittura il primo gioco che ti cito è il singolo tizio che si picchia perché si chiama Cry Evoke è un vecchio gioco degli anni 70 adesso è stato rieditato da Historic One che è una ditta francese di appassionati e adesso è Discard cioè perché è francese quindi il Guiscardo è stato riambientato è stato riambientato con Normani poi c'è tutta la parte anche in Sicilia con i bizantini tutte queste belle cose qui ed è un wargame uno a uno cioè ogni pedina è un singolo uomo tant'è che tu giri le pedina sono bellissime sono hanno illustrazioni bellissime vedi il cavaliere con la lancia spezzata oppure che si è preso la botta in testa eccetera eccetera e questo proprio per cominciare ha un bellissimo anche sistema di campagna di assedi eccetera è quasi a gioco di ruolo ok? quindi a gioco di interpretazione come se tu avessi un singolo personaggio e questo è proprio il livello più stretto poi ci sono quelli che vengono chiamati wargame leggeri io qui ne ho wargame leggeri perché? perché sono dei wargame che hanno poche regole poca complessità poca durata uno due ore al massimo regole da otto dieci pagine al massimo utilizzano sistemi di complessità nascosta qui io saluto un grandissimo amico Andrea Angiolino che è un po' un campione di questa complessità nascosta cioè dei sistemi che invece di avere otto regole ne hanno una sola che però ottiene lo stesso effetto e è questo qua io ho un po' di scatole qua poi magari faremo passare un po' di immagine però è terribile parlare di giochi senza farli vedere questo ve l'ho fatto vedere anche prima è Dark Ages Britannia in France è un gioco di battaglie con delle carte che vi dicono quali ordini potete dare alle vostre truppe avete le truppe da mantenere la coesione e tutto quanto e qui noi partiamo da prima di Hastings dalle campagne sassoni diciamo e arriviamo fino alle guerre scozzesi quindi appunto qui c'è veramente tanto un gioco fra l'altro italiano con manuale in italiano scaricabile dal sito molto facile da reperire ce ne sono anche tanti altri di questi perché in leggeri semplici la serie di Commons and Colors io farò un po' di nomi poi andate magari un po' a cercare anche voi insomma c'è veramente tanto e c'è un si chiama Commons and Colors Medieval e che ha suscitato un po' di disorientamento proprio per far capire quanto è labile il concetto di Medioevo negli amici americani perché Medieval comincia con i bizantini e tu dicevano ma che c'entrano questi non sono romani no 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 sono i bizantini perché ragazzi non è che abbiamo cominciato nell'anno 1000 col Medioevo e quindi ci sono tutte queste tutte queste battaglie di questa epoca qua naturalmente abbiamo citato dei grandi classici quindi noi abbiamo tutto una lunga serie c'è stata una lunga serie negli anni 70 e 80 soprattutto della 3W i giochi di Rob Markham che poi anche qui andate un po' a cercare lui ha fatto una lunga serie di giochi che partivano da praticamente dal Medioevo quindi dalle crociate effettivamente fino e poi più o meno con lo stesso sistema arrivavano arrivavano fino a tutta la guerra civile inglese quindi pensatevi quindi tutto un sistema molto molto bello molto particolare e anche molto semplice per gli standard attuali che era un po' beh c'era una serie che era mitica la serie dei prestag qui entriamo proprio agli anni 70 invece precedente con aveva Viking e Yeoman che partivano dall'800 nel senso di 8-0-0 che arrivavano fino a 1400 per intenderci e questo vi fa capire che molti giochi sono dei giochi possono essere giochi multi epoca cioè con lo stesso sistema voi avete un regolamento centrale e poi un libro degli scenari e all'interno di questi scenari c'è la singola battaglia quello che sta andando molto per la maggiore è stato appena rieditato adesso e a me piace tantissimo è la serie Man of Iron della GMT bellissima e qui è uscito il tripack aveva tre giochi hanno messo in uno Man of Iron parte appunto noi partiamo addirittura dalle crociate e poi arriviamo fino a tutta la guerra delle due rose con un sistema ad attivazione incrociata quindi non è che muovo prima tutte le mie piedine io e poi le muovi tu in maniera lineare sequenziale muovo una battaglia c'è una divisione del mio esercito poi vedo se posso muovere una seconda battaglia c'è una seconda divisione sulla base dei valori di comando dei singoli comandanti c'è una ricerca storica pazzesca qui dietro oppure se tu interrompi la sequenza delle mie attivazioni e quindi e se a quel punto muovi tu una battaglia quindi hai questi scontri che sono come quelle medievali in cui non puoi farti piani troppo complicati perché può andare tutto a carta e 48 in un attimo e questi sono della serie dei giochi multi epoca ce ne sono anche di gioco c'è un gioco italiano molto bello che si chiama Guelphs and Gibble Lines perché non l'ho fatto in inglese ma il gioco italiano appunto sulle battaglie c'è Campaldino e tutto quanto un autore italiano Roberto Chievini per una ditta inglese ha fatto post cards from Tuscany tutti quanti gli scontri cartoline della Toscana tutti gli scontri di quest'epoca però per farvi vedere anche quale può essere la differenza io ho fatto vedere questo bellissimo scadolone enorme che è grosso più da mia testa ma ci sono anche dei cosi così cioè dei giochi così questa è una serie questo ovviamente non è un multi epoca ogni gioco è una battaglia singola queste sono quelle della decision sono i cosiddetti folio che tra l'altro costano 15, 18, 20 euro al massimo questo uno è su Acre e uno è su Arsuf e anche questi sono giochi molto semplici sono giochi che ti durano una serata una serata tranquillamente hanno delle regole veramente basilari una cosa da dire sul wargame noi adesso nei tattici noi stiamo parlando del wargame in senso stretto ok anche se ha un po' già un po' di filtrazioni avete visto di roba un po' strana però nel wargame in senso stretto molti pensano che sia complicato qual è la grandezza del wargame è che sostanzialmente i principi di base rimangono gli stessi almeno in un certo tipo di wargame il wargame esagonato tu hai le pedine si muovono di tot combattono con i valori che sono scritti sulla pedina il comandante può influire su di loro sulla base di un raggio sulla base della distanza questi principi una volta che tu l'hai imparato da un giochino come questo che sono sei pagine passare a questo che sono 12 pagine di regole significa che una metà te la sei già fatta perché è la stessa roba solo un po' più dettagliata con un po' più di roba però facendo una scala di progressione scalabile diciamo è scalabile l'apprendimento è assolutamente graduale e l'altra cosa bellissima del wargame e questo l'ha detto un grandissimo autore Mark Simonich di wargame se a voi uno dei miei giochi sembra troppo complicato una regola vi sembra troppo complicata non applicatola non è che io vengo lì a suonarvi a casa oh ma scusate non stai applicando la regola sul morale la disapplicate certo la simulazione ovviamente a quel punto sballerà un po' perché gli avete tolto un pezzo ma non è importante intanto fate andare avanti il gioco il gioco va avanti voi lo imparate e poi nelle partite successive lo inserirete alcuni di questi regolamenti addirittura lo fanno cioè hanno degli scenari graduali sempre più complessi questo è vero per esempio in regolamenti della seconda guerra mondiale dove c'ha i primi scenari c'è solo l'affanteria poi dopo ti aggiungo i carri poi ti aggiungo l'appoggio di artiglieria e lo faccio sempre più complesso la logistica i risattornimenti esatto aggiungo un pezzettino ma anche sui medievali molto spesso è facile e possibile creare sull'antichità sempre di questi stessi autori che sono Richard Berg Herman non ha lavorato tanto qui ma diciamo Richard Berg c'è il Great Battles of History che è un regolamento dettagliatissimo sulle grandi battaglie dell'antichità c'è il simple Great Battles of History cioè gli stessi scenari hanno fatto un regolamento semplificato non c'è nessun problema usa esattamente gli stessi pezzi vedete quanto è quanto è versatile su giochi dedicati diciamo così in monobattaglia ce ne sono veramente tanti una cosa che un pochino latita e questo è interessante è la parte degli assedi la la poliorcetica parola orribile che in tecnico significa appunto l'arte di spugnare una città molto molto stretta in ambito in ambito workgamistico non è tantissimo considerato c'è ci sono per Krajevok quello di cui vi ho parlato all'inizio delle espansioni che si chiamano Siege The Anarchy eccetera che sono specifiche vi fanno vedere la torre d'assedio la ballista queste cose così però effettivamente ce ne sono poche c'era una cosa in un vecchio gioco una cosa su Acry che era di arte ossia ci sono stati giochi sulla serie di Costantinopoli però sono più le eccezioni che la regola su questo effettivamente la parte dell'assedio perché è molto tecnica crea un po' crea un po' problema poi ci sono invece dei giochi che a me piace chiamare i giochi diversi i giochi strani che però rimaniamo nell'ambito della simulazione militare e sono i giochi della serie Shields and Swords che sono dei giochi molto belli perché sono dei giochi con poche pedine alcuni addirittura con una griglia neanche con gli esagoni proprio a scacchiera qual è il problema? che voi date un ordine il vostro esercito è diviso di nuovo in battaglie in pezzi gli date un ordine quel pezzo continuerà ad eseguire quell'ordine che gli avete dato finché non riuscite a dargliene un altro quindi se voi avete detto un pezzo di andare in carica e però a un certo punto lo volete fermare e non è detto che ci riuscite perché avete dei tiri di comando per capire se quelli effettivamente si fermano o continuano dritti ad andare avanti quante volte noi leggiamo nel resoconto di una battaglia ah improvvisamente questo pezzo della cavalleria è partito e non è più rientrato perché non hanno perso il contatto un problema dei wargame militari in senso stretto che alle volte hai sia una visione eccessiva cioè sai troppe cose sia sul tuo esercito che su quello dell'avversario anche se ci sono poi li vedremo tra un po' dei wargame che inseriscono quella che in gergo tecnico si chiama nebbia di guerra ma soprattutto hai un controllo eccessivo cioè è troppo facile dare degli ordini la serie Mane of Iron l'abbiamo visto bilancia un po' questo nel senso che non è detto che io riesca ad attivare tutte le sequenze tutte assieme tutte le tutte le il mio esercito quando lo voglio le volte perdo il ritmo e l'avversario e l'avversario si inserisce addirittura l'avversario ha dei segnalini che può lui forzare un cambio di iniziativa infine però veramente diverso è questo robo qua di cui ne abbiamo parlato che questo è qualcosa di veramente molto interessante ti vedo sorridere perché tu lo conosci questo quanto meno ne abbiamo parlato e avevo una domanda anche su questo sì perché adesso l'autore è Folkorunke ed è un autore che in realtà lui è un ex analista CIA specializzato in simulazioni politico-militari e di flusso di informazioni è l'autore della fortunatissima serie Coin di Labyrinth e di altri giochi di questo proprio sui conflitti moderni ma non solo la particolarità di Nevsky è che è un wargame militare fatto e finito perché l'argomento è la campagna dei teutoni che vanno in Russia eccetera eccetera benissimo quella di Alexander Nevsky quella del filmone eccetera il problema di Nevsky qual è? è che voi dovete pensare alla logistica scoprite che per invadere la Russia vi servono una marea di barche una marea di carri di i carri quando è primavera perché poi dopo ghiaccia tutto oppure viene il fango loro vi servono le barche per andare sul fiume ma che cosa ci trasportate? Gli uomini? Sì ma non solo gli dovete portare le armi gli dovete portare l'equipaggiamento tutti i vettovagliamenti possono trovarlo lì dove sono sì però se devastate una provincia che state conquistando non è una grande idea e se ci fermasse qua sarebbe ancora meglio poi c'è ancora poco poi c'è tutto un bel sistema di carte che vi dice voi fate la vostra campagna ma il papa che ne pensa? oppure uno dei vostri in realtà è un vescovo che deve tornare indietro il lord tal dei tali se non ottiene un saccheggio entro sei mesi quello prende se ne va e se ne va via con metà del vostro esercito e quindi gli dovete far fare delle battaglie vere e proprie questo ci porta e la nello in congiunzione verso il prossimo livello che è quello dei giochi strategici ed è molto interessante perché è un primo tentativo molto convincente di fare un gioco operazionale medievale cioè in cui io comando un'intera campagna non un'intera guerra ma un'intera campagna abbiamo un altro in arrivo questa è una serie un altro in arrivo si chiamerà Almoravid quindi è abbastanza facile capire dove siamo in Spagna e si vociferava sembra che stia lavorando su uno su Barbarossa non l'operazione Barbarossa contro la Russia ma Barbarossa l'imperatore i comuni che ci interessa molto dai vicini in questo discorso quindi sto benedetto imperatore che arriva lì ma avrà i suoi bei problemi a rifornirsi in terra italiana con i comuni e tutto quanto quindi questa è una serie veramente da da tenere in considerazione tu avevi però una domanda su questo sì io ho visto ho letto un paio di interviste di Folkorun che è l'autore di Nevsky beh a parte che mi ha fatto piacere che lui che è americano ma abbia riscoperto l'Europa per le sue origini lui mi diceva sia baltico adesso non so se ho letto neolituano sì tedesco della zona del baltico sì 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 e ci tiene che la gente te lo chiami anche in America runche e non ranchi perché tutti vanno su ranchi e dicono no e runchi quindi ma poi Folko è anche un nome che andrebbe benissimo per un sergente dei cavalieri teutonici sì 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 è quasi italiano poi come suono esatto italiano francese no e lui diceva che aveva cercato proprio un'epoca di sfida per proprio per i suoi concetti di logistica e comunicazione diceva io cerco un'epoca dove la logistica abbia un sacco di complicazioni e dove la comunicazione sia estremamente difficoltosa proprio come tu accennavi dicendo non è detto che il comando che tu dai dopo di che poi vabbè c'è anche il discorso che se vuoi fare una simulazione metti il carattere del comandante qual è? è un Riccardo Cordileone che sta sempre che sta sempre in prima fila o è un comandante invece di quelli che si tengono un po' più indietro quindi l'evoluzione che poi ne parla Keegan ne parlano insomma cambia proprio lo stile c'è tutto questo aspetto c'è tutto questo aspetto di nuovo che rientra in quello che io definisco non lineare cioè il diversificato multilivelli non cinetico chiamatelo come volete qui è molto importante perché c'è appunto tutta questa parte logistica tant'è che alcuni hanno detto beh non è un wargame questo secondo me è più wargame questo di quello che ti fa solo muovere la pedina sull'esagono senza crearti questo problema cioè c'è anche questo livello tra l'altro con delle regole semplici sono complicate da gestire perché è complicato il pensiero strategico tu prima di mandare avanti un tizio gli devi fare uno stock di un bel magazzino di roba prima di mezzi di trasporto eccetera però ti mette nella posizione in cui era chi gestiva queste campagne che non si limitava a spostare con un tratto di penna 10.000 uomini in una parte all'altra perché anche gli eserciti medievali e qui ci fa riflettere avevano dimensioni così limitate vale tenere tu 5.000 cavalieri con i cavalli con il seguito con tutto quanto quello che hanno per tanto tempo in uno stesso posto o farli spostare ancora peggio e sostenerli e convincerli a rimanere lì perché loro potevano prendere e andarsene se c'era il nobile locale che prendeva e addirittura ti creava dei problemi a casa una volta che era tornato a casa con la tua legittimità quindi vedi che è un discorso è un po' un tira e molla andiamo avanti aumentiamo poi ci sarà anche un altro gioco abbiamo parlato di Ammoravidi andiamo un pochino più avanti ci sarà anche un altro gioco su Granada sulla conquista di Granada in cui avrai appunto delle truppe di anche lì fedeltà dubbia quindi delle truppe tu porti la pedina non sai se combatterà o meno in quella specifica battaglia e anche lì anche questo è un aspetto molto interessante è un sistema che è stato utilizzato nel gioco Sekigara sulle guerre feudali giapponesi giapponesi è molto molto bello molto particolare adesso è in uscita per la Compass Games anche quest'altro gioco su Granada andiamo però allo strategico andiamo allo strategico quindi andiamo quindi ampliamo la nostra rappresentazione e andiamo a vedere come il gioco rappresenta le grandi guerre dell'epoca medievale le grandi espansioni territoriali tu hai parti anche qui con dei wargame leggeri ce n'è uno in italiano molto bello che è 878 Vikings sulle varie invasioni da tutte le parti dell'Inghilterra di quel periodo veramente molto semplice rapido che tu veramente lo puoi insegnare io l'ho giocato con ragazzi di 10-12 anni si sono divertiti un mondo ci sono wargame ibridi introduciamo rapidamente l'argomento del wargame ibrido che inserisce l'aspetto militare con l'aspetto politico e ce n'è uno molto bello eccolo qua mi vedete ogni tanto che mi agito ma vado a prendere scatole che è questo qua 1066 1066 Tears to Many Mothers che è sull'invasione normanna è un gioco di carte contrapposto la cosa bella che è un gioco di carte su Hastings che però parte da prima quindi tu come normanno ti devi preparare anche politicamente la tua invasione e c'hai proprio delle carte che sono tutti gli step dell'invasione devi assicurarti la fedeltà dei nobili l'appoggio papale tutto quanto come Sassone invece devi combattere Arald Ardrada che arriva da una parte Toastig dall'altra eccetera e sulla base di come ti sei preparato poi farai la battaglia di Hastings quindi c'è tutta la parte della preparazione questo è un gioco che è un gioco di carte con 6 pagine di regola anche questo rapidissimo non dico che è una briscola no però diciamo ha questi meccanismi di confronto diretto ecco e che però sono calibrati per rappresentare gli eventi storici e poi invece vai a quelli che sono dei wargame strategici più propriamente militari ah altro gioco altre cose carine sono questi qua si chiamano filler sono dei giochini questo è un giochino che si chiama The Causing's War ed è molto bellino sulla guerra delle due rose questi sono giochini che si giocano in 20-30 minuti in cui tu sulla mappa sposti i tuoi cubetti che rappresentano la tua presenza fai le battaglie e sulla base di quegli eventi sul gioco tra carte e cubetti vai avanti e appunto ricrei l'intera campagna l'intera guerra quindi questi sono giochi molto semplici non esagerare non esagerare perché poi mi crei dalla paura degli esagoni all'ansia d'acquisto perché poi mi viene io ho gente che mi odia per questo mi odia benignamente sei un attentato al mio pertafogli però sempre rimanendo invece eccoli qua rimanendo invece nell'ambito dei giochi più puramente dei militari ci sono questi qua questo è Hammer of the Scots ed è sulle guerre scozzesi questa è la particolarità di essere un block game avevamo parlato prima di nebbia di guerra sono giochi in cui le pedine sono delle pedine di legno come dello stratego che vedi solo tu l'avversario non sa cosa sono se non quando arrivate a scontrarvi le muovi sulla mappa e si tirano giù a quel punto si fa la battaglia e lì a quel punto anche lì diversivi inganni mosse eccetera questa appunto è una cosa molto interessante dal punto di vista strategico di questi con i block games c'è Hammer of the Scots Crusader Rex sulle crociate Richard the Third di nuovo sulla guerra delle due rose veramente anche qui ne trovate tantissimi andiamo un pochino credo che meriteranno poi delle puntate delle puntate extra perché veramente sono c'è 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 veramente tantissimo infine andiamo a vedere quelli che sono poi wargame politico-militari in cui tu vai ad unire aspetti proprio di espansione di conquista con aspetti di trattativa eccetera c'è uno molto bello che è la serie Britannia che è stata appena rifatta adesso e che addirittura tu hai tre secoli e passa sulla stessa mappa e cambi da un popolo all'altro da una civiltà all'altra parti dalla fine dei romani quindi cominci con i romani e arrivi appunto fino ai sassoni quindi c'hai diversi secoli tu cambi fazione ognuna ha le sue caratteristiche e c'è molta interazione anche molte trattative con gli altri giocatori poi ci sono c'è uno si chiama Machiavelli ed è per chi conosce il diplomacy che è un gioco di trattativa assoluta e anche di tradimenti continui che è sul rinascimento ce ne sono altri Pax Renaissance sulla parte economica del rinascimento quindi sei un banchiere che va a finanziare stati da una parte all'altra sei sempre dietro con le tue dinamiche poi nelle crociate anche lì dei giochi molto belli Onward Christian Soldiers in cui i giocatori cristiani si devono mettere d'accordo se no la città ritorna ai giocatori arabi quindi si devono mettere d'accordo questa città me la prendo io no questa te la prendi tu e c'è una regola che se entro 5 minuti non vi mettete d'accordo se la prendono gli altri c'è Warriors of God sulla guerra guerra dei cent'anni e poi di nuovo una cosa particolare con cui chiudo Kingmaker e Crown of Roses sulla guerra delle due rose in Kingmaker tu sei una coalizione di nobili e i reali di York e Lancaster sono solo delle pedine che tu vai a prendere vai a a pescare da una parte all'altra mentre invece in Crown of Roses invece è un pochino diverso e quindi i protagonisti tornano ad essere i reali come anche in Richard III che era un altro block game quindi come vedi molti giochi danno una visione diversa dello stesso evento poi io poi ho fatto tanti nomi però vi assicuro che sono solo la punta dell'iceberg perché c'è ancora veramente ancora tanto da esplorare infatti adesso visto che ci rimane poco tempo io penso che valga la pena però fare magari una futura puntata di approfondimento perché veramente tanta carne al fuoco e la culina in bocca è venuta a me ma penso che venga anche agli altri ascoltatori possiamo magari vedere qualcuno più nello specifico chiuderei con una domanda personale cioè qual è il tuo gioco preferito sul medioevo e se hai mai creato un tuo gioco o hai mai pensato di realizzarlo e se lo dovessi fare su quale periodo del medioevo e direi che con questa poi chiuderemo guarda io gioco favorito io non rispondo mai a queste domande perché poi dipende anche da come sto quella sera cioè quella sera io ho visto tanto tempo fa una a Modena a Modena Play un manifesto pubblicitario della della fiera del gioco e diceva chi vuoi essere oggi questo slogan per me era bellissimo perché dipende da chi voglio essere quella sera quella sera voglio la singola battaglia allora ti potrei dire meno Byron ma un'altra sera la singola battaglia non mi basta allora voglio Crusader Rex che mi fa vedere tutte le crociate insieme e me le fa gestire quindi quello veramente dipende molto dal mood del momento su questo è difficile rispondere perché ti darei otto risposte diverse sul creare un gioco me lo chiedono in tanti me lo chiedono in tanti il problema del creare il gioco è che forse è una mia cosa per me è una cosa difficile molto difficile più difficile di quello che si pensa e secondo me è anche giusto che chi parli analizzi tanto i giochi continui a vedere a parlare con gli autori a intervistarli a conoscerli bene a vedere anche la loro prospettiva ma mantenga la prospettiva del giocatore almeno io voglio fare così cioè voglio mantenere una critica ludica caro amico Alessio Lana dice in Italia non c'è una critica ludica è vero cioè c'è poca analisitura di quello che è il gioco ed è vero ci sono diversi abbiamo avuto dei ludologi Dossena adesso abbiamo Angiolino abbiamo Char abbiamo altri bravissimi però nel grande pubblico c'è poco questa figura e io credo che sia importante proprio mantenere una visione da giocatore poi io non escludo che un giorno mi venga Luzzolo se mi dici l'argomento quale puoi voler fare io sono un fanatico delle lotte tra comuni per esempio delle lotte tra quel periodo mi piace tantissimo uno e l'altro è sempre lì sbattono l'ho citato diverse volte quello delle crociate questo incrocio di civiltà interessantissimo che secondo me è un momento fondamentale ed è veramente veramente quindi se ti dicessi nel Medioevo eccetera eccetera io andrei lì oppure terza cosa terza alternativa periodo bizantino perché è un'altra mia passione personale e quindi lì anche gli intrighi di corte come vedi cose molto in cui si intrecciano interazione politica trattativa economia e tutte queste cose se e quando li farai li presenterai anche con noi di Italia Medievale va bene molto volentino io ti ringrazio chiuderei qui grazie a voi a nome di tutti gli amici di Italia Medievale ci diamo appuntamento in futuro continuate a seguire Riccardo Masini sui suoi canali podcast YouTube vlog e checkpoint Charlie perché vale veramente la pena grazie a tutti e un saluto e anche da parte mia vi ricordo di continuare a seguire le nostre produzioni video sul canale YouTube di Italia Medievale e di andare a visitare il nostro sito all'indirizzo www.italiamedievale.org grazie a Riccardo Masini grazie a Giuseppe Bianchi grazie a voi e arrivederci a tutti ciao a tutti grazie a tutti